Ursula Bennardo. I fan sono preoccupati per l'ex dama di Uomini e Donne. Arriva la notizia che fa tremare i social. Che dramma. L'amatissima ex dama di Uomini e Donne, nonché compagna di Sossio Aruta, fa preoccupare tutti. L'annuncio social spezza il cuore dei suoi fan. Ursula Bennardo fa preoccupare i social. L'ex dama di Uomini e Donne si può considerare sicuramente una regina dei social. Da quando è diventata popolare. A seguito della sua partecipazione al dating show di Canale 5. Continua ad avere un seguito di follower sicuramente importante. Ogni giorno condivide sui suoi profili social momenti della sua vita privata. Mostrandosi da sola o in compagnia del compagno e dei figli. Soprattutto dell'ultima arrivata. Bianca. La bimba è nata dall'amore con un altro protagonista di Uomini e Donne. Sossio Aruta. Venuta al mondo nel 2019. Bianca è il loro frutto della passione e dell'amore. Colei che tiene unita questa coppia che più volte nel corso degli anni è stata sul punto di lasciarsi. Non arrivano però buone notizie per quanto riguarda i due famosi beniamini di Ued. La Bennardo fa spaventare i social. Una serie di post e stories pubblicate sul suo profilo Instagram mettono in agitazione i fan. Che cosa le sta succedendo? Scopriamolo in che cosa sta accadendo alla ex dama di Uomini e Donne. Ursula Bennardo si è fatta conoscere per la sua partecipazione a Uomini e Donne. Per essere oggi la compagna di Sossio Aruta e per aver messo alla prova il suo amore con lui nel programma Mariano. Temptation Island. I due hanno avuto una figlia. Bianca. Nata nel 2019. Sebbene la loro relazione abbia affrontato più bassi che alti. Oggi continuano a stare insieme. Almeno questo è quello che sembra ai fan. Tuttavia. Sul suo profilo Instagram. La Bennardo ha fatto preoccupare tutti. La bella biondina ha pubblicato una serie di Instagram stories e post che hanno spiazzato i suoi tantissimi seguitori. Inizialmente. La ex dama di Uedì ha pubblicato uno scatto che ritrae la piccola bianca che indossa un cappellino azzurro con i cuoricini bianchi e un giubbino di jeans. Questa è la didascalia che troviamo poi in una delle sue stories. A quanto pare. Dunque. Ursula starebbe attraversando un periodo delicato della sua vita. Non sappiamo che cosa le stia succedendo. Lei non si è voluta esporre più di tanto. Nonostante tutto. Sotto i suoi post. Tantissimi seguitori hanno commentato cercando di saperne di più ma non hanno ricevuto risposta. Anche qualche ora fa. La Bennardo ha fatto spaventare tutti mostrando una story dove dice. La Bennardo sembra non voler pensare ai problemi e martedì 22 settembre ha pubblicato la foto di una scena di uomini e donne scrivendo di essere felice per l'inizio della trasmissione. I suoi pomeriggi ora avranno un altro sapore. In ogni caso. I fan si chiedono cosa sta succedendo nella vita della Bennardo. Problemi di salute? Problemi con Sossio? Per il momento non è dato saperlo. Problemi con Sossio? Per il momento non è dato saperlo. Problemi con Sossio? Per il momento non è dato saperlo. Problemi con Sossio? Per il momento non è Problemi con Sossio? Per il momento sono pienamente Grazie a tutti.